I trattamenti sciamanici, trattamenti spirituali, insegnamenti, non sostituiscono i comuni e consueti e normali trattamenti e cure mediche praticati da medici qualificati. La pratica sciamanica non è volta ad effettuare diagnosi mediche, non sostituisce in alcun modo cure mediche appropriate o terapie professionali per problemi mentali. La pratica sciamanica e gli insegnamenti spirituali non sono pareri medici e non devono essere considerati come tali. La facilitazione di pratiche magiche, sciamaniche o spirituali e relativi trattamenti e riti sono destinati al benessere dell'individuo e non creano un rapporto medico-paziente. La pratica magica o sciamanica e spirituale non si rivolge alla risoluzione di problemi mentali né vengono accettati clienti con problemi mentali o sotto cura psichiatrica. Qual è lo scopo della tua vita? Qual è lo scopo della vita? Salve a tutti, sono Alex Peverada, operatore olistico ed operatore esoterico. Domandona da un miliardo di euro a cui non risponderò io perché lo scopo della vostra vita ve lo dovete trovare voi. Posso raccontarvi quella che è la mia esperienza. Rudolf Steiner diceva che la vita non ha scopo di per sé, ha lo scopo che tu gli dai. E sono d'accordo. Eppure nel contempo lui stesso parlava di motivi per cui ci incarniamo e motivi per cui si incarnano gruppi di anime, popoli, famiglie e nazioni. Io penso che una vita non abbia uno scopo solo, ma ci siano scopi maggiori e scopi minori. In una vita c'è sempre uno scopo maggiore o una serie di scopi maggiori e una serie di scopi minori. Lo scopo lo dobbiamo trovare noi, autoosservandoci, capendo in che direzione va la nostra vita, capendo i fatti principali della nostra vita. Quindi più andiamo avanti nella vita, più riusciamo a capire, rianalizzando e riguardando la nostra vita, quali erano gli scopi di questa incarnazione. Soprattutto per chi come me crede nella reincarnazione e quindi crede che ci sia un film, una storia precedente a questa vita. Posso dirvi quali possono essere gli scopi principali di una vita, per la mia esperienza, parlando in termini generici. E alcuni di questi possono in qualche modo essere più sentiti da voi e altri meno. Spero che questo vi possa portare un po' di aiuto. Se analizziamo le grandi vite delle personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, da Gandhi a Mandela, piuttosto che Gesù il Cristo per chi ci crede, ma potete prendere un Papa, il Dalai Lama, qualsiasi figura che per voi è di valore, Osho o Rudolf Steiner, creare l'antroposofia, faccio riferimento a figure che hanno anche un peso spirituale, oltre che un peso mondano. È chiaro che è normale pensare che queste persone avessero quello scopo. In realtà questo è lo scopo che viene percepito da noi come scopo ultimo, come sintesi della loro vita. Ma sicuramente hanno avuto degli scopi non meno importanti e anche un po' più mondani. Per noi comuni mortali, che non creiamo la storia dell'umanità, o perlomeno facciamo la nostra piccola mossa, il nostro piccolo passo, dovremmo cominciare a vedere quello che è la nostra vita mondana. Cioè, abbiamo fatto figli o vorremmo fare figli? Quante volte ci siamo sposati? Chi abbiamo sposato? Che lezione abbiamo appreso da questi fatti? Come ci siamo relazionati a nostro padre, a nostra madre e loro a noi? Come ci siamo relazionati ai nostri parenti e alle nostre professioni? Perché ho fatto il medico, l'infermiere o l'insegnante o il pittore o lo scultore o il pompiere e via dicendo? Non è solo un lavoro. Spesso nel lavoro c'è dietro una missione. Per missione di vita non c'è bisogno di pensare a salvo 10.000 anime, poi se salvate 10.000 persone in un incendio, ho fatto i pompieri, sono contento per voi e avete tutta la mia stima. Ma a volte semplicemente nel mestiere in sé c'è un richiamo specifico, qualcosa che ci racconta qualcosa di noi. Quindi il mio consiglio per capire lo scopo delle vostre vite è guardare il vostro passato. se avete 40-50 anni e magari mi direte, ma mia madre mi picchiava sempre, mio marito mi ha tradita tante volte, ascolto tante storie tristi. È vero, ma cosa c'è dietro quello? Qual è la lezione che posso trarre? Non significa andare a capire mi merito quella cosa, la sono meritata, quindi vuol dire che nelle vite precedenti ho fatto qualcosa di male. è un ragionamento un po' puerile, così come dire ho aperto un'azienda e è fallita e lo scopo della mia vita cos'è? Far fallire un'azienda? No, quello è stato un passo necessario, a volte anche governato da fattori che non erano sotto il nostro controllo, ma capire cosa succede dopo un grande trauma, cioè come elaboro quel trauma, come cresco. Ed è difficile per tutti, difficile per voi, difficile per me. Ho fatto un figlio, ho avuto anni di matrimonio felice, qui parlo in prima persona, non sto parlando per esempio estratti. Il matrimonio poi non è andato bene, il figlio resta. Si potrebbe dire che uno degli scopi della mia vita è stato donare un figlio all'universo, fare un figlio, crescerlo, amarlo, per tutta la responsabilità che ne consegue. Questo è uno degli scopi della mia vita. Un altro scopo potrebbe essere fare il mestiere che faccio, che io abbia aiutato cento persone e non milioni come Gandhi, poco importa, però qualcuno ho aiutato. Non ci ho solo vissuto di questo lavoro, qualcuno non ce l'ho fatta, qualcun altro non è stato soddisfatto. Pazienza. La maggior parte delle persone ha ricevuto aiuto da me. Bene, se continuerò a fare questo mestiere e lo farò per altri anni, tanti anni, avrò aiutato più persone e quindi il mio piccolo scopo di questa vita sarà assolto. Volete uno scopo più grande? Diventare dei politici? Potete. Siete già dei politici? A livello locale potranno diventare più importanti. Magari il vostro scopo potrebbe essere diventare dei politici più importanti, ma cercando di essere il più integri possibile, senza considerare necessariamente che tutta la politica sia corrotta. Quindi non conta solo lo scopo che avete scelto per questa vita o che è stato scelto per voi, ma come lo vivete, come lo affrontate e come lo rielaborate. Perché ho scelto proprio per quel partner, o perché quel partner ha scelto me, o perché l'universo ha scelto per me quel partner, perché non sempre scegliamo di chi innamorarci, quasi mai. Se poi avete anche strumenti come la meditazione e lo sciamanesimo che vi permettono di accedere a possibili ricordi delle vite precedenti, vi consiglio di vedere i miei due video sulle vite precedenti. valutate anche lo strumento dello sciamanismo e della meditazione per accedere a possibili ricordi, per capire meglio quale può essere il continuo di scopi o il bilanciamento di scopi di vite precedenti. E come fare per gli scopi futuri di vita? Se siete giovani, o comunque se sentite che avete ancora tanti anni davanti, eh, bella domanda, perché la cosa facile è capire al contrario, retrospettivamente, gli scopi della vita. La cosa difficile è sapere che cosa ci aspetta. A 40 anni sono, 44 fa poco, sono un uomo ben diverso da come lo ero a 20, e a 20 non avrei mai immaginato di diventare quello che sono. Quindi, se Dio vuole che camperò altri 40 anni, meno o di più, non posso aspettarmi di sapere che cosa mi accadrà. E credetemi, non vale, ah, ma tu sei uno sciamano o dici di essere uno sciamano? Eh, allora dovresti saperlo. No. Perché proprio perché magari è un piccolo dono di sensibilità, sensitività, allora ancora di più l'universo ti cela il tuo destino, perché altrimenti sarebbe vincere facile. Sapere in una corsa a ostacoli, se arriverai primo o decimo, non ti farà vincere. E soprattutto non ti farà correre in maniera naturale quella corsa. Tu devi dare il meglio di te stesso. O te stessa. E quindi per questo l'universo, attraverso il tempo, ci cela i prossimi step. A volte ho fatto sogni profetici, però non significa che io so, o che li controllo questi sogni, e so come andrà la mia vita. Onestamente non credo neanche che nessuno ne sia in grado. I sensitivi che ho conosciuto, anche più dotati di me, generalmente avevano solo, comunque, visioni specifiche, sempre discutibili. Non credo nelle profezie. Non nella misura in cui siano esatte. Sono delle tendenze. A volte ci prendono, a volte no. Per cui vanno prese sempre con le pinze. Per cui gli scopi della vita futura, grandi o piccoli che siano, potranno sembrarvi scelte, o potranno accadermi e credere che non sono scelte vostre. Sta a voi decidere. Però quello che può cambiare è il coraggio. Il coraggio di affrontare questi scopi di vita in una maniera più possibile, il più possibile, consapevole. Trovate la vostra forza interiore e trovate i vostri scopi. Capiteli. Perché danno senso all'esistenza. In fondo l'esistenza, accumulare beni materiali, accumulare esperienze, può essere valida fino a un certo punto. Ma poi è nel capire i grandi scopi della propria vita, che non sono niente di trascendentale, perché anche diventare nonno può essere un grande scopo di vita. Però, se affrontiamo quello scopo di vita con consapevolezza, avremo una marcia in più nella vita che affrontare la stessa identica vita senza nemmeno renderci conto del perché la viviamo. Vi onoro e vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete iscrivermi al mio canale YouTube Lux Nova e partecipare ai miei eventi di sciamanesimo, magia, esoterismo e spiritualità che trovate sul sito www.lux-nova.it o contattarmi per un consulto individuale. Seguitemi anche sulla pagina Facebook Alex Poverade e Lux Nova Consapevolezza per andare incontro agli scopi della vostra vita. Consapevolezza per andare incontro agli scopi della vostra vita.